Ciao! Oggi sono qui con la mia chitarra per parlarvi di un effetto quantistico spettacolare. Immaginate di trovarvi in visita in una nuova città, per esempio a Barcellona. Vi trovate a piazza università e dovete andare alla Sagrada Famiglia, solo che non sapete dove sia esattamente. E sfidate i vostri amici a chi la incontra prima degli altri, ma senza usare una mappa e senza chiedere a nessun passante. Ognuno di voi seguirà quindi un percorso casuale, sperando di imbattersi nella Sagrada Famiglia per primo o per prima. Ma voi avete un asso nella manica, voi potete assumere un comportamento quantistico e seguire tanti cammini diversi allo stesso tempo. Infatti la meccanica quantistica ci insegna che una particella elementare può seguire vari cammini contemporaneamente per arrivare a destinazione e poi collassare una volta arrivata. Sicuramente voi vincerete la gara, perché seguendo tanti cammini allo stesso tempo troverete la strada più corta verso la Sagrada Famiglia molto prima dei vostri amici. Questo modo di comportarsi è stato chiamato camminata quantistica, o quantum walk in inglese. E come è stato scoperto recentemente, è proprio una camminata quantistica che viene eseguita all'interno delle cellule di una foglia dove l'energia della luce del Sole è convertita in altre forme di energia. Una scoperta sensazionale. Oggi scopriamo perché alla base della fotosintesi, e quindi alla base della vita, vi sia una camminata quantistica. Il mio nome è Simone Varoni, sono un fisico, sono innamorato della scienza e della natura, e la mia missione è divulgare la scienza in modo accattivante. Mi invito a iscrivervi al mio canale di scienza. Per capire come funziona una camminata quantistica, dobbiamo prima capire cosa sia un cosiddetto battimento. Ho qui con me la mia chitarra, e pizzico la prima e la seconda corda in modo che emettano lo stesso suono. Si tratta di una nota a mi. Le due corde vibrano alla stessa frequenza, quindi l'aria emessa in vibrazione ha la stessa frequenza delle due corde e noi percepiamo un unico suono. Se ora scordo leggermente una delle due corde, esse vibreranno a frequenze leggermente diverse. Si produce un suono che cambia continuamente di intensità, come se facesse un wow, 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 wow. Questo è un battimento. Un'onda che aumenta di intensità, poi diminuisce, poi aumenta di nuovo e così via. Se registro il suono con un microfono e visualizzo l'onda sul computer, si vedono chiaramente i battimenti, con intensità dell'onda che aumenta e diminuisce continuamente. Il battimento è dunque un fenomeno ondulatorio che proviene dal fatto che due o più onde, con frequenza simile ma diversa, si sovrappongono. Vi ricordate l'esperimento degli elettroni e della doppia fenditura in cui gli elettroni si comportano come onde? Ne abbiamo parlato in un altro episodio intitolato l'esperimento più bello della fisica. Tra l'altro è un esperimento realizzato a Bologna nel 1976 dei fisici Merlin, Messiroli e Pozzi, un esperimento geniale e affascinante. Quando un elettrone è inviato su una doppia fenditura, invece di comportarsi come una particella e passare o dalla fenditura di destra o da quella di sinistra, l'elettrone si comporta come un'onda e passa attraverso entrambe le fenditure contemporaneamente. Poi emerge dall'altro lato delle due fenditure e le due onde che emergono interferiscono tra loro dando luogo alla tipica figura di interferenza. Il fatto che una particella si comporti come un'onda e che addirittura quest'onda possa interagire con se stessa è un fenomeno squisitamente quantistico. Teniamo a mente questo esempio dell'elettrone e delle due fenditure perché ci sarà utile tra poco. Ora torniamo alla foglia e come essa assorba l'energia di un fotone e non se la lasci scappare. Un fotone parte dal Sole e dopo circa 8 minuti raggiunge la Terra, attraversa l'atmosfera e colpisce una foglia. Il fotone è assorbito da una molecola di clorofilla, in particolare da un elettrone di una molecola di clorofilla. L'elettrone fa un salto quantistico a un livello energetico superiore e lascia lo stato quantistico iniziale vuoto. Si dice che si è creato un eccitone composto da un elettrone che ha fatto un salto e da un livello ha lasciato vuoto. Ora la molecola di clorofilla ha un problema. Essa possiede un surplus di energia che deve cedere a un cosiddetto centro di reazione dove si accumula tutta l'energia assorbita dalla foglia, da varie molecole di clorofilla. Se l'energia non viene ceduta in brevissimo tempo, e parliamo di un decimillesimo di miliardesimo di secondo, ovvero cento femtosecondi, allora l'elettrone risalta al livello inferiore e riemette il fotone e la foglia perde l'energia del fotone. Risulta però che le molecole di clorofilla sono molecole allungate e che sono disposte come tanti a alberi uno di fianco all'altro, come una foresta di piccoli alberi. Ogni albero è una molecola di clorofilla. Il centro di reazione si trova in media molto lontano da una molecola di clorofilla che contiene l'ecitone. E l'ecitone chiaramente non sa da che parte si trovi questo centro di reazione nel bosco di clorofilla. È dunque la stessa situazione di voi che volete raggiungere la Sagrada Famiglia ma non sapete in che direzione si trovi e nemmeno a che distanza si trovi. E fino al 2007 si pensava che l'ecitone potesse trasferirsi da una molecola di clorofilla all'altra per salti successivi casuali in cui l'energia è trasferita da una molecola a una sua vicina a caso. Ma se così fosse sarebbe come cercare la Sagrada Famiglia seguendo un percorso casuale. E se così fosse l'elettrone risalterebbe al livello inferiore prima che l'energia raggiunga il centro di reazione. E questa energia andrebbe persa. Invece esperimenti di laboratorio mostrano che questa energia è trasferita al centro di reazione con un'efficienza maggiore del 90% ovvero più del 90% di questi fotoni dell'energia di questi fotoni viene trasferita efficacemente al centro di reazione. È come se noi potessimo costruire pannelli fotovoltaici in cui più del 90% della luce solare è convertita in elettricità. Ebbene, da alcuni studi di biologia quantistica risulta che nelle foglie l'ecitone segue più cammini contemporaneamente e che è proprio così che è capace di trovare il centro di reazione molto più rapidamente. L'ecitone esegue e c'è una camminata quantistica. Proprio come l'elettrone nell'esperimento della doppia fenditura che segue più strade contemporaneamente per arrivare sullo schermo finale dopo le due fenditure. La fotosintesi quindi che inizia con l'assorbimento di un fotone del sole comincia proprio con un fenomeno quantistico di tipo ondulatorio la camminata quantistica. Vi chiederete ma cosa c'entrano quindi i battimenti di cui parlavamo prima con le corde di una chitarra? E inoltre come facciamo a fare un esperimento in cui osservare cosa succede a questi eccitoni all'energia di questi elettroni che hanno fatto un salto a un livello superiore di energia nelle molecole di clorofilla? L'unico modo che abbiamo di capire cosa accada nelle molecole di clorofilla è quello di illuminarle con una luce di un certo tipo e di osservare che luce venga emessa da queste molecole. Se ci pensate anche quando osserviamo un oggetto facciamo la stessa cosa. Illumino per esempio un libro con la luce del sole o di una lampada e osserva i fotoni emessi da questo libro. Con le cellule delle foglie facciamo la stessa cosa. In alcuni esperimenti detti di spettroscopia trasformata di Fourier si colpiscono queste cellule con lampi laser di frequenze caratteristiche della clorofilla e si registra la luce che viene poi riemessa da queste cellule. Se l'eccitone di una molecola di clorofilla saltasse da una molecola all'altra un salto alla volta in modo classico quindi non quantistico questo equivorrebbe a pizzicare le corde della chitarra una alla volta. Pizzico una corda e la chitarra emette un suono ben preciso. Nelle cellule mando un fotone che eccita un elettrone quindi crea un eccitone e poi questo elettrone riemette luce della stessa frequenza del laser iniziale. Una frequenza precisa come quando pizzico appunto una singola corda di una chitarra. Se invece l'eccitone esegue una camminata quantistica questo vuol dire che una volta che il laser eccita l'elettrone si crea un eccitone che poi segue tanti cammini contemporaneamente e questo significa che vi saranno tante molecole di clorofilla eccitate allo stesso tempo e come se pizzicassi i vari accordi di chitarra contemporaneamente ognuna con una frequenza leggermente diversa perché l'intorno molecolare di ogni molecola è leggermente diverso. E proprio come nel caso della chitarra che abbiamo visto all'inizio si creano battimenti. solo che in questo caso i battimenti sono detti battimenti quantistici in inglese quantum bits. Quindi in laboratorio si mandano impulsi laser sulle cellule che eseguono la fotosintesi e si osserva la luce riemessa poco dopo e quel che si osserva sono battimenti quantistici. Questo significa che l'eccitone non si sposta salti singoli non si comporta come una particella ma segue tanti cammini contemporaneamente si comporta come un'onda ovvero esegue una camminata quantistica finché raggiunge il centro di reazione e collassa. Una cosa sorprendente è che questa camminata quantistica dura fino a 600 femtosecondi ovvero 60 millesimi di miliardesimo di seconda. Sembra un tempo molto breve ma dobbiamo considerare che i fenomeni quantistici in generale sono molto delicati e basta una debole interazione con altre molecole o fotoni a interrompere il fenomeno. Per questi chip quantistici dell'IBM di Google per esempio lavorano a temperature di circa meno 270 gradi proprio per ridurre al minimo le interferenze. Si dice che i fenomeni quantistici perdono facilmente velocemente di coerenza e se consideriamo che non stiamo parlando di un ambiente controllato in laboratorio ma bensì di una cellula in cui ogni molecola è costantemente in interazione con le altre immersa in un liquido in cui la temperatura è la temperatura ambiente è davvero sorprendente che la coerenza quantistica possa durare così a lungo. il tempo necessario per trasportare l'energia di un fotone da una molecola di clorofilla al centro di reazione attraverso una camminata quantistica che segue vari cammini contemporaneamente. Lo trovo davvero sorprendente e affascinante. E voi? Cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti. Vi ricordo che se volete saperne di più sulla gravità su come funziona il tempo che è intimamente legato alla gravità e sulla relatività di Einstein potete leggere il mio libro Capire il tempo e lo spazio. Eccolo qui. È un libro che trovate esclusivamente su Amazon ed è un libro per tutti perché usa un linguaggio semplice e più di 60 trafigure e schemi disegnati da me come questo per esempio. Vi lascio il link al libro in descrizione. Ciao e a domenica con un nuovo video. Grazie. 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 Grazie.